Veicolare il messaggio di sport e legalità attraverso la promozione di un'educazione sportiva seria e costruttiva. E' questo l'importante obiettivo del primo Memorial Filippo Raciti, organizzato per sabato presso lo Stadio delle Palme di Palermo dall'Associazione Sportiva Direttantistica MOL. Ad un anno dalla morte dell'Ispettore di Polizia Filippo Raciti, in seguito agli scontri avvenuti all'esterno dello Stadio Massimino di Catania, in occasione del derby Catania-Palermo, il Memorial rappresenta infatti un importante momento in cui lo sport genuino si coniuga con il ricordo. La giornata, interamente dedicata allo sport e all'atletica leggera in particolare, prevede infatti quattro gare, una sulla distanza di 60 metri riservata agli studenti delle scuole elementari, una sulla distanza di 400 metri riservata ai ragazzi fino a 16 anni, un'altra sulla distanza dei 300 metri riservata agli atleti FIDAL amatori ed un'ultima sulla distanza dei 5.000 metri per gli atleti FIDAL assoluti. La partecipazione alle gare è comunque gratuita e aperta a tutti e vedrà il coinvolgimento, oltre che di esponenti delle forze dell'ordine, di scolaresche catanesi e palermitane, anche di alcuni giocatori del Palermo e del Catania Calcio che apriranno la giornata di sabato. Attraverso l'atletica vogliamo ricordare una figura importante, una figura che ha segnato un socco profondo nella nostra coscienza, nella coscienza di tutti i siciliani, dei palermitani, dei catanesi e dalla quale dobbiamo ripartire affinché non si debba altre volte celebrare dei martiri nella nostra terra. Il rispetto per le istituzioni e il rispetto per lo sport perché oltre ad aver tolto la vita a un uomo in quella giornata si è tolta la dignità a un intero settore, a tanti uomini che credono allo sport, che lo celebrano come un momento di festa e non come un momento di guerra. Lo sport è oggetto vero di integrazione, sicuramente significa attività sociale e più che mai ne abbiamo la prova con questo memorial che è stato organizzato molto bene e che dà lustro a quello che possono essere le principali prerogative dello sport stesso.